Il perché siamo qui stasera è perché, nel contenuto nel titolo, l'uomo è diventato capace di modificare, di intervenire su quello che è il codice genetico, cioè l'insieme delle informazioni che stanno alla base della produzione di un nuovo organismo e che permettono tutte le funzioni, tra cui la riproduzione e tutto. E allora appunto ci sembra quasi di toccare la possibilità di intervenire a nostro piacimento sulla vita. E ovviamente questo risveglia in tutti noi sentimenti che possono essere, da una parte, di incredibile speranza, perché pensiamo a tutte le persone che hanno una malattia geneticamente determinata. Se noi potessimo, non lo siamo ancora in grado, ma penso che lo riusciremo, lo saremo, di modificare per tempo un determinato gene, impediremmo la manifestazione della malattia. Quella persona sarebbe perfettamente normale. E poi appunto si possono immaginare scenari di ogni genere. Questa sera doveva esserci con noi, ma è oggi pomeriggio, purtroppo mi ha scritto che non riusciva a venire, Remuzzi, che forse è il direttore del Mario Negri di Bergamo. Nefrologo, ma è forse il ricercatore italiano più noto al mondo, insomma più addentro anche ai consessi ultimi della scienza mondiale. Abbiamo avuto con lui uno scambio, un rapporto intenso, nel senso che noi gli abbiamo detto un po' le cose che volevamo. Lui all'inizio pensava fosse un convegno più scientifico, poi gli abbiamo chiarito il contesto, il pubblico, le persone, così. E lui poi ha detto che veniva, di sicuro, e poi purtroppo oggi mi ha spiegato che doveva partire per un viaggio per il Sud America e che gli avevano anticipato molto presto l'aereo domani mattina, per cui non se l'è sentita di venire, ma si è scusato enormemente, ma ha detto di scusarlo con voi, per cui non ha potuto venire. Niente paura perché abbiamo tre relatori di questo. Il primo che ci parlerà è Carlo Suave, che forse molti conoscono, che ha dedicato un po' la sua vita allo studio soprattutto dell'evoluzione della vita sulla Terra. Quindi se volete a come si è formato il DNA, il DNA dell'uomo che in fondo è all'apice della catena evolutiva e che appunto comincerà affrontando il tema. E poi parlerà Giorgio Dieci che è invece il direttore del Dipartimento di Chimica per la vita dell'Università di Parma e che approfondirà questi argomenti. E poi chiederemo a loro di contenere in 25 minuti l'intervento in maniera che ci possano essere domande, perché penso che questo sia molto necessario andare a fondo con domande. Per cui Carlo. In genere io ho la voce forte, mi si sente? Ho capito. Ho messo questa slide all'inizio, questa era una copertina di New Scientist di un paio d'anni fa. Riding the CRISPR, cioè cavalcare CRISPR, è il solito acronimo che usano gli biologi molecolari, che non si capisce mai cos'è, vuol dire cluster, repeated, interspersed, eccetera, eccetera. Comunque è l'acronimo per dire l'ultimo grido di quello che si chiama il genome editing, cioè la capacità attuale di manipolare in modo molto preciso il genoma. Vedete l'immagine fatta così è un po' di entusiasmo, no? Sono tutti, la fanciulla è contentissima di questa onda, eccetera. Ecco, siccome però Mauro ha tirato fuori la questione della biologia evoluzionistica, Allora, parto dall'ultima, che io pensavo di non mettere, però siccome l'ha tirata fuori. Ecco, questo è un grafico un po' curioso, perché qui in Ascissa abbiamo il tempo, dal momento della formazione della Terra, dal momento della comparsa della vita sulla Terra, tre miliardi e mezzo di anni fa. E poi, fino adesso, e qui in ordinata abbiamo il tempo che intercorre tra un'innovazione e quella successiva. Faccio un esempio. I primi organismi viventi sono datati intorno a tre miliardi e mezzo di anni fa, ed erano come i batteri di oggi. Poi passano due miliardi prima che saltino fuori delle cellule con il nucleo un pochino più complesse. Poi portano altri 500 milioni di anni prima che arrivino degli organismi pluricellulari. Però solo dopo 100 milioni di anni arrivano i rettili. Poi vedete, c'è un'accelerazione continua. Voglio dire, l'agricoltura nasce 10.000 anni fa. Il computer quanto? 30 anni fa? O più o meno. Cioè, è un'accelerazione continua. E, in fondo, noi ci siamo dentro questa storia. Cioè, uno si può chiedere, e adesso fra 30 anni? Perché questa è una domanda che tocca a noi, forse anche a quelli un po' più giovani. Cioè, il problema è se noi saremmo preparati ad accogliere, ad abitare questa tecnologia che sempre più accelera. Perché questo è l'ambiente in cui noi ci troviamo oggi. Vabbè, questo era per ricollegarmi con l'evoluzione. Quindi torno indietro. Allora, che noi uomini da sempre manipoliamo gli organismi eventi è assolutamente vero. Cioè, siccome noi, dal punto di vista della nostra fitness biologica, siamo una frana, non abbiamo ortigli, non abbiamo zanna, arriva uno scimpanzee sul tram, ci fa fuori subito tutti. Però, con la tecnica, riusciamo a farcela. E abbiamo manipolato, tu, sempre gli organismi viventi. Faccio un esempio. Questo è un pomodoro selvatico. Questo è un pomodoro attuale. Non crederete mica che questo pomodoro qua sia naturale. Questo pomodoro è assolutamente... In natura da solo non può sopravvivere. Se non ci fosse l'uomo che lo conserva. Ed è assolutamente geneticamente modificato da sempre. Una banana selvatica è questa, non è un gran mangiare. Una spiglia di frumento selvatica è così. L'ancestrale del grano turco è questo. Quindi tutto ciò che noi coltiviamo è manipolato, modificato. Ma come anche nella domestica. Questo è il lupo. È tutto il bassotto, il mastino, eccetera. Sono tutte manipolazioni, selezioni fatte dall'uomo. Quindi... E sono tutti geneticamente modificati, eh. Ora, uno può chiedersi come abbiamo fatto. Ma come abbiamo fatto? Abbiamo usato vari modi. Il modo più tranquillo che abbiamo utilizzato per millenni è stata la selezione massale. Adesso lo spiego poi in incrocio e in mutazione indotte. La selezione massale è la cosa più di buon senso che abbiamo fatto. Cioè abbiamo osservato la variabilità in natura e cosa facevano questi nostri antenati? Prendevano i semi delle piante più vigorose e li tenevano da parte per la semina successiva. E quindi, semplicemente selezionando sempre, senza sapere nulla di genetica, eccetera, i varianti migliori hanno progressivamente, sfruttando la variabilità naturale nella sua componente genetica, hanno migliorato, per esempio, la produttività o la forma. Pensate alla selezione dei cani. Oppure gli incroci. Noi da sempre abbiamo detto che è sconsigliabile la progenie di genitori geneticamente affini, perché in questo caso la probabilità di alterazioni genetiche è più elevata. Ma guardiamo la cosa, la modaglia dall'altro lato. vuol dire che se noi usiamo dei genitori geneticamente distanti, la progenie sarà più vigorosa. Questo è quello che abbiamo utilizzato. Per esempio, nel caso del mais, genitore 1, genitore 2, si fa l'incrocio, questo è il figlio. Boom. Si chiama i terosi, il vigore dell'ibrido. Voglio dire, il più grande esempio di selezione di questo tipo è stato, per esempio, con la tratta dei negri dal 1600-1700 in America. Oppure facendo mutazioni indotte, questo era un campo sperimentale in cui si irraggiava con cobalto e si inducevano mutazioni, cioè si aumentava la frequenza delle mutazioni spontanee. Con un mutagene, in questo caso era un mutagene fisico, si potevano anche usare mutagene chimiche. Quindi noi da sempre, o con la selezione massale, incroci, mutazioni indotte, abbiamo modificato gli organismi viventi. Ma quello che è stata una svolta è stata la rivoluzione mendeliana. Questa è l'abbazia di Brno, e quell'orticello lì era dove Mendel faceva i suoi esperimentini. Ma perché, qual è stata la rivoluzione mendeliana? È che al tempo di Mendel, cioè l'idea di patrimonio genetico era pensato come un'unità unica e indivisibile. Era un unicum. Mendel cosa dice? No, i miei esperimenti dimostrano che il patrimonio genetico è fatto da unità discrete, lui li chiamava elementi, il nome gene viene dal 1905, eccetera. Lui li chiamava unità discrete, indipendenti l'una dall'altra. Questa è stata la rivoluzione concettuale. Ma, ovviamente, dopo la riscoperta di Mendel nei primi anni del 1900, questo concetto si è affermato, ma cosa ha portato? Ha portato fondamentalmente alla concezione del gene pair. Quello che si legge sui giornali. Scoperto il gene pair. Il gene pair, i capelli biondi, il gene pair, gli occhi azzurri. Cioè, l'idea che una concezione genocentrica dell'organismo vivente siamo quello che sono i nostri geni. Il gene pair. Allora, il nostro destino in salute o malattie è scritto nei geni. Se pensiamo ai giornali, tv, eccetera, eccetera, ha trovato il gene per l'intelligenza, ha scoperto il gene dell'egoismo, anche quello della bontà, meno male. Cioè, interessante, questo era un articolo di Robinson su Nature Review Genetics nel 2005, neanche tanto tempo fa. Il goal della sociogenomica, perché c'è anche la sociogenomica, è di raggiungere una comprensione approfondita della vita sociale in termini molecolari. Il biologo molecolare va alla grande. Quali geni e quali vie regolano tutti quegli aspetti che sono alla base della nostra società. Questa è una conseguenza di quel concetto, il gene pair. Noi siamo quello che sono i nostri geni che agiscono secondo il concetto mendeliano, appunto, individualmente, eccetera. Il problema vero è se questo concetto è vero. Perché, in realtà, quello che adesso emerge, per esempio, pensate, questo è un progetto che sta partendo, scoprire il ruolo di ciascun gene, per esempio, nel topo. Questo è molto ben finanziato. Qual è il problema? Il problema è questo, che non è adeguato quel concetto di genoma, insieme di tanti geni che agiscono indipendentemente. In realtà, questi geni interagiscono tutti fra loro, per la grandissima parte. Questa è la rete di interazione, ciascuno dei punti bianchi. Questo è il lievito, tra l'altro, che non è così complicato come un topo. Questi punti bianchi sono tutti i geni e queste linee che li connettono sono tutte le relazioni che ci sono. Allora, questo è importante. Perché? Siamo proprio sicuri di poter conoscere esattamente la funzione di ciascun gene. Se agiscono indipendentemente uno dall'altro, ok, ma se in qualche modo interagiscono in una rete, allora se io tocco un punto è l'effetto, eccetera. Quindi questo è come dire quello che abbiamo sul tavolo. Oltre a questo abbiamo anche la conoscenza molto approfondita della sequenza del genoma. Cioè il genoma è fatto dal DNA e attualmente noi possiamo fare molto facilmente la sequenza dell'intero genoma. Si può andare dal medico il quale invece di farvi prescrivere una tacca vi dice ma si faccia fare la sequenza del DNA e capiremo cosa è predisposto, eccetera. Non costa molto. Attualmente siamo sui 2.000 euro più o meno ecco. Bene, questa è la situazione in cui ci troviamo ora e su questo allora entra il genome editing. Ora intanto c'è una cosa curiosa il genome editing sembra una parola un po' molto scioccante interessante. Intanto come nasce? Questo è interessante. nasce alla fine metà degli anni 90 del secolo scorso da una evidenza che era sotto gli occhi di tutti. Allora gli organismi più abbondanti sulla terra fin dagli inizi sono batteri e virus i quali convivono da 3 miliardi insieme e è ovvio che hanno trovato il modo i batteri di difendersi dai virus e i virus di cercare di bypassare le difese dei batteri e hanno sviluppato i batteri una forma di immunità che concettualmente è molto simile a quella nostra degli anticorpi solo che loro invece di usarla con le proteine degli anticorpi la usano catturando un pezzo di DNA del virus ricopiandolo in modo tale che quando arriva il nuovo virus usano quell'informazione per difendersi concettualmente come l'anticorpo solo che è fatto come interazione tra acidi nucleici di DNA RNA questa è stata la base che ha permesso di arrivare al genome editing e adesso spendo poche parole per descrivere una delle forme quella attuale quella che va sotto il nome di CRISPR Cas9 che è la forbice associata va bene vedete CRISPR è questo acronimo terribile cluster da regolare senza spesso del short palindroming repeats ora cosa serve per il genome editing intanto la parola genome editing quell'editing è un po' il concetto del correttore di Bozze cosa fa il correttore di Bozze voi scrivete un articolo lo mandate all'editore il quale lo legge e dice questa parola la cancelliamo questa la scriviamo in un altro modo questo è quello che fa l'editore rimaneggia un po' il manoscritto quindi qui il manoscritto è il genoma cioè la sequenza di DNA dell'organismo in questione l'edit significa cambiare alcune parole ora cosa serve per fare questo correttore di Bozze insomma primo serve quello che si chiama l'RNA guida ora questo concetto dell'RNA guida si basa sulla caratteristica fondamentale del DNA la doppia elica lo sappiamo tutti ci sono le basi azotate e con la regola fondamentale che se da una parte c'è la base che si chiama adenina di fronte sull'altro filamento ci deve stare una timina se c'è una citosina ci deve stare una guanina qual è il succo della questione che data la sequenza di un filamento automaticamente è fissata la sequenza dell'altro e i due insieme fanno doppio filamento stabile quindi fissata la sequenza di un filamento automaticamente si ha l'altro ma questo può avvenire sia tra un filamento di DNA e un filamento di RNA la differenza è solo che l'RNA invece del desosseribosio c'è un altro zucchero che è l'aribosio ma anche lui ha la sequenza di basi anche qui se io ho una determinata sequenza del DNA qui questi segmenti di vario colore sono le varie basi adenina citosina eccetera l'RNA avrà la sua sequenza complementare e se i due si incontrano si forma l'ibrido ora cosa vuol dire questo che se io conosco la sequenza del DNA e individuo la sequenza per esempio corrispondente al gene che codifica per la globina che è la proteina che tiene l'emoglobina io posso costruire in laboratorio un RNA complementare con la sequenza di basi complementare a quella del gene della globina cosa vuol dire che se io adesso inietto in una cellula questo RNA lui va a appaiarsi a quel gene della globina quindi è un RNA guida che mi va a individuare la sequenza che io volevo colpire prima cosa questo è il primo reagente l'RNA guida secondo reagente un paio di forbici cioè cos'è una forbice una proteina un enzima in questo caso che è capace di tagliare il DNA su tutti e due i filamenti così questa è la sequenza del DNA la forbice taglia quello che succede è che quando queste forbici che tecnicamente si chiama nucleasi a doppio filamento tagliano le cellule automaticamente fanno partire il meccanismo di riparo si taglia il filamento di DNA la cellula reagisce e fa partire il meccanismo di riparo solo che cosa succede che spessissimo il riparo sbaglia invece di riattaccare perfettamente le estremità tagliate magari riunisce però perde un pezzettino si chiama delezione oppure inserisce un extra pezzo di DNA che voi gli fornite e quindi io potrei dire questo è tavolo e invece di fare tavolo mi fa un'altra mi inserisce un extra extra sillaba e quindi cambia il senso della parola oppure sostituisco una base invece di tavolo diventa cavolo insomma una roba del genere e quindi questo sistema di riparo genera mutazione questo è il secondo reagente il terzo è ovvio è il complesso RNA guida forbice perché se io metto insieme la proteina forbice con l'RNA guida e lo inserisco questo complesso in una cellula cosa farà la guida mi porta la forbice sul gene che voglio e lì taglia e a questo punto quando taglia e quando taglia parte il sistema di riparo e questo fa errori e permette di introdurre mutazioni nella sequenza di DNA corrispondente al gene scelto perché conoscevo il pezzo della sequenza del DNA che volevo colpire mi faccio l'RNA complementare e questo mi guida la mia forbice faccio notare che i reagenti ve li vendono a un prezzo molto ridotto con 250 euro prendete tutto dicono che si può fare anche in cucina non è proprio così ma non è difficile non è complicato non serve un mega laboratorio e il kit è già in vendita e con questo hanno già fatto un po' di robe adesso vi faccio vedere qualche esempio per esempio questi sono dei maialotti super muscolosi perché hanno aumentato l'espressione del gene per la sommato troppo quindi fanno braccioloni molto grossi eccetera questi lasciamo stare i cani eccetera questi sono dei salmoni molto grossi questo invece è un maialino dove hanno modificato il gene per la crescita e allora è un maialino da passeggio perché si può mettere ok ma come io come posso fare sull'ombre per esempio io potrei estrarre delle cellule progenitrici delle cellule degli elettrociti e per esempio in un caso di talassemia e quindi modificare in queste cellule in coltura il gene che codifica per l'emoglobina moltiplico rinietto e quindi avrò una popolazione di eritrociti che non hanno più non più talassemice eccetera questo è per fare un esempio ecco sì ci sono quasi in tempo ci sono alcune domande che solo come inizio si potrebbero prendere in considerazione che poi passerò al biologo molecolare una domanda e questo è un aspetto tecnico se è possibile eliminare gli off targets cosa sono gli off targets è che io la sequenza del mio RNA guida io spero che vada proprio a colpire la sequenza del gene che voglio ma se c'è un'altra sequenza abbastanza simile può darsi che il mio RNA guida vada oltre che sul bersaglio vada anche su un bersaglio non voluto quindi devo cercare di migliorare moltissimo la specificità del mio RNA guida questo è un problema due quali alterazioni genetiche sono possibili targets del genoma del genome editing e qui il problema è si ritorna al concetto ma è giusta la questione del gene pair o siamo di fronte a una rete è ovvio che tutte quelle alterazioni genetiche fondamentalmente diciamo le malattie monogeniche dove il fenotipo cioè l'espressione della malattia è prevalentemente determinata dall'alterazione di un singolo gene sono target per elezioni ma tutti quegli altri casi dove invece si chiama l'eredità mancante insomma dove l'effetto che si manifesta è la risultante dell'interazione allora lì diventa molto più complessa la questione cioè il problema vero è conosciamo esattamente la funzione di tutti i geni ma non di come interagiscono tra loro questo è il punto conoscitivo rilevante terzo è possibile prevedere accuratamente gli effetti fenotipici cioè del genome editing è la questione di prima cioè se è una rete io tocco qui spero che di andare in porta in un certo modo ma in realtà l'effetto va dall'altra parte insomma dobbiamo intervenire con il genome editing sulle cellule germinali o sugli embrioni questa è una questione delicata perché è evidente che se io intervengo molto precocemente per esempio su un embrione quando le cellule germinali non sono ancora differenziate è chiaro che la modifica che introduco diventa ereditaria perché man mano che si differenziano queste cellule germinali acquisiscono l'alterazione oppure se io agisco direttamente sulle germinali è chiaro ok ora su questo c'era stato dunque un primo convegno credo a dicembre del 2015 in cui si diceva no momento andiamo piano sulle cellule germinali sugli embrioni lo possiamo fare solo per scopi di ricerca eccetera eccetera dopo tre mesi in Inghilterra hanno dato il permesso di fare lo stesso sperimentazione sulle cellule germinali e sugli embrioni ultima domanda il punto è che il genomedico ormai l'abbiamo scoperto e non possiamo tornare indietro cioè non è mai esistito nella storia umana che noi abbiamo inventato una tecnologia e non l'abbiamo usata proprio possiamo solo chiederci come procedere agire responsabilmente il problema è cosa vuol dire agire responsabilmente nelle modificazioni genetiche sull'organismo i venti l'uomo compreso cosa vuol dire agire responsabilmente la domanda è questa però bisogna approfondire la risposta ok ma poi c'è un altro aspetto che io vorrei che nella discussione poi vorrei che si potesse affrontare ma perché lo facciamo perché che cosa desideriamo veramente ora se voi parlate con i biotecnologi la risposta è sempre ovvia cioè la maggior parte delle biotecnologie emergenti in ambito umano sono state sviluppate con l'obiettivo di curare gravi malattie questa è la risposta classica però molte delle tecnologie emergenti potrebbero essere impiegate anche per potenziare capacità fisiche e comportamentali dell'uomo cioè un po' il mito dell'uomo cioè interviene questa domanda cioè ma cosa non ci aspettiamo dalla tecnologia che cosa vogliamo veramente c'è un brano di Anne Arendt che a me ha sempre colpito che dice molti tentativi scientifici recenti mirano a recidere l'ultimo legame per cui l'uomo rientra ancora tra i fili della terra si rivela qui il desiderio di evadere dalla prigione della terra il desiderio di sfuggire la condizione umana cioè come se noi stessimo in una camicia troppo stretta cioè è un po' l'incapacità di vivere il presente e quindi di proiettare in un futuro il superamento di questa prigione in cui noi ci sentiamo dentro e quindi proiettiamo sulla tecnologia che non è tecnica è un modo di concepire se stessi l'ambiente insomma lo proiettiamo in un futuro che poi dopo non sappiamo se arriverà o meno però io dico però questo desiderio di evadere potrebbe avere anche il desiderio il volto del desiderio di conciliazione e armonia tra la realtà e noi stessi nell'intera ampiezza delle nostre capacità cioè un desiderio di sintesi tra la realtà limitata presente noi certamente siamo limitati ma lo siamo ora come lo saremo anche fra 50 anni e 100 anni e un'idea illimitata cioè una rinuncia alla speranza mitica però non è rassegnazione ma una lealtà di fronte alla realtà che noi siamo c'è una frase che a me colpisce moltissimo nel prometeo incatenato prometeo è quello che aveva donato il fuoco rubato il fuoco a Zeus e poi Zeus l'aveva messo sulla allora il coro dice ma non ti sembra di essere andato troppo oltre nei doni fatti agli uomini e prometeo dice sì ho tolto in loro la consapevolezza di essere mortali allora il coro gli dice ma che farmaco gli hai dato per curare questa malattia prometo rispondere ho posto in loro cieche speranze grazie grazie Carlo mi sembra che abbiamo hai aperto anche tu molte domande le hai fatte quindi c'è spazio Giorgio bene allora chiedo se si può magari mettere la presentazione che eccola qua va bene innanzitutto ringrazio il centro culturale di Milano per questo invito sono molto contento di essere qui e ringrazio poi Carlo Suave per la sua illustrazione molto sia molto chiara dei principi di base di questa nuova tecnologia sia per le domande che ha posto sono veramente grandi domande allora io sono un biochimico e nei miei studi da qualche anni anche adesso mi sto occupando di genomi cioè di organizzazione dei genomi di controllo della loro espressione perché poi quello che conta non è tanto il genoma in sé ma è il fatto che quelle istruzioni che ci sono lì possono essere espresse e quindi possono diventare possono contribuire a far sì che le cellule siano quello che sono che gli organismi siano quello che sono e per questo è fondamentale appunto che ci sia un controllo dell'espressione del genoma e per una buona parte dei miei studi io ho utilizzato come organismo modello un lievito unicellulare che è saccharomyces cerevisiae che è il lievito di birra ben noto a tutti noi e è quello che diciamo un privilegio di chi lavora con il lievito è che noi il genome editing lo facciamo da un sacco di tempo nel senso che già dal 79 quando è stato pubblicato questo lavoro e poi questa tecnica è stata perfezionata di fatto in lievito è possibile sostituire segmenti di cromosomi quindi segmenti di DNA segmenti di qualsiasi gene con sequenze alterate costruite a tavolino semplicemente sfruttando una cosa che poi si sfrutta anche nel genome editing quello di cui ha parlato Carlo Suave cioè sfruttando il fenomeno della ricombinazione omologa che che tende a riparare errori che vengono generati nella sequenza diciamo di DNA con con qualcos'altro allora se voi fornite un DNA che è quello che si fa anche nel genome editing dopo aver fatto il taglio viene fornito un DNA costruito a nostro piacimento questo viene ricombinato sostituisce la porzione alterata e quindi noi abbiamo sostanzialmente modificato il genome esattamente come vogliamo quindi questa cosa del lievito non la dico per così fare la figura del pioniere di cui non ho assolutamente nessun merito perché io ho semplicemente usato una tecnologia che era disponibile però lo dico per sottolineare come questa quello che c'è a tema stasera non rappresenta di per sé un incremento della nostra conoscenza di cosa siano gli esseri viventi di come sono strutturati di qual è la loro struttura intima di cosa c'è veramente di importante da capire ma è semplicemente l'estensione potentissima attuabile a bassi costi in modo molto semplice a qualsivoglia organismo qualsivoglia cellula della possibilità di modificare il genoma per cui i lievitari come vengono chiamati in gergo non sono più privilegiati adesso perché in qualsiasi organismo si può fare questo tipo di modificazioni che sono uno strumento potentissimo almeno io l'ho usato ma molti laboratori nel mondo l'hanno usato negli anni proprio per alterare porzioni di genoma e capire quali sono le conseguenze e quindi capire avere informazioni sulla organizzazione di base di questi di questi organismi quindi proprio per capire di più di cosa si tratta quindi c'è questa grande capacità di intervento adesso il punto su cui ho incentrato un po' quelle poche cose che cercherò di dirvi è questo per allora chiaramente noi adesso possiamo manipolare possiamo manipolare per nell'ambito di esperimenti per conoscere di più le cose oppure possiamo manipolare per ottenere dei risultati pratici anche molto importanti come per esempio la cura di malattie genetiche eccetera quindi noi possiamo eseguire questa manipolazione allora diciamo punto che è molto semplice di buon senso che io vorrei un po' sviluppare è che si si manipola con tanto maggiore saggezza quanto più si conosce bene ciò che si manipola e il punto è che quando noi manipoliamo un genoma però quello che abbiamo di fronte è un organismo cioè un essere vivente non è un genoma il genoma di per sé è una macromolecola che scorporata presa come tale è semplicemente una specie chimica mentre noi abbiamo a che fare con organismi quindi il punto è occorre che cos'è veramente un organismo cioè quando noi modifichiamo il genoma che cosa modifichiamo di questo organismo qual è il contesto naturale di un genoma e che rilevanza ha rispetto alla previsione per esempio delle conseguenze delle nostre manipolazioni Allora qui mi ha già aiutato caro soave perché il primo punto che volevo sottolineare è che quando scusate vabbè intanto possiamo vederlo anche qua quando oddio non stavo cercando di usare il point quando quando noi tocchiamo un gene quindi uno di questi cerchiolini bianchi è uno dei 6.000 geni del lievito di birra per l'appunto questo deriva da uno studio pubblicato nel 2016 uno studio sistematico delle interazioni genetiche fra tutti i geni del lievito noi evidentemente andiamo a modificare tutto il network o meglio ovviamente in misura maggiore quanto più gli altri geni sono vicini al gene che noi tocchiamo quindi è un oggetto molto complesso quello che noi andiamo a modificare modificando un gene un singolo gene e quindi questo è uno scenario quindi rimanendo solo nell'ambito del genoma ma il genoma visto dal punto di vista di tutte le piccole componenti di Mendel che però poi vengono messe insieme nella loro organizzazione naturale il genoma è una cosa di estrema complessità già di per sé ma il punto che io voglio fare è che approfitto di questa così serata è che sta diventando sempre più chiaro che quello che si eredita quello che ognuno di noi ha ereditato quando era una singola cellula derivata dalla fusione di due gameti non è soltanto due genomi aploidi che hanno ricostituito un genoma diploide ma noi abbiamo preso corpo originariamente da cellule cioè omniscellula e cellula diceva Wirkow nella fine dell'Ottocento che è un principio assolutamente fondamentale ciò da cui noi traiamo origine sono cellule non è non è DNA c'era qualcosa oltre il DNA all'inizio c'è sempre qualcosa che costituisce il contesto naturale del DNA e questa idea che può essere diciamo che può sembrare così una speculazione in realtà sta diventando fondamentale cioè sta ricevendo supporto dal fatto che piano piano è cominciato a essere possibile fare esperimenti che dimostrano questo aspetto e mi piace qui ricordare un saggio molto importante che è rappresentato che è stato pubblicato nel 2005 che è stato che quando è stato pubblicato secondo me è stato insomma un libro coraggioso perché le due autrici Yablonka e Lamb hanno cercato di fare una summa di tutta la letteratura e soprattutto di molta letteratura scientifica recente e hanno proposto l'idea che non è chiaramente inaspettata considerando tutto quello che c'era prima che ciò che viene ereditato è molto più dei geni e loro identificano in questo saggio quattro sistemi di eredità che poi giocano un ruolo anche nell'evoluzione che loro definiscono come i sistemi genetico che è quello di cui abbiamo parlato finora e questo è il bersaglio del genome editing di un sistema epigenetico che io ho sottolineato perché poi dirò qualcosa in più perché questo apre degli scenari enormi tutti da esplorare nell'ambito dell'eredità genetica comportamentale e simbolico dove simbolico è poi un sistema di eredità caratteristico degli esseri umani ma che esiste che ha una sua imponenza anche se chiaramente affrontarlo implica estendere il raggio d'azione e estendere le discipline che entrano in gioco molto importante è il fatto che questi livelli in particolare il livello epigenetico di eredità il sistema epigenetico di eredità aprono la possibilità che cambiamenti indotti e acquisiti anche durante la vita stessa di un individuo di un organismo possono essere trasmessi per più generazioni in modo stabile e quindi possono contribuire all'evoluzione allora quello che sto dicendo detto dieci anni fa e fra l'altro mi piace ricordare anche questa foto d'archivio perché Eva Jablonka fece un incontro qui al centro culturale di Milano più di dieci anni fa ormai mi ha stupito questo periodo che è passato in occasione della traduzione da parte di UTET del saggio di Jablonka e Lemb che poi adesso è stato ripubblicato nel 2014 stavo dicendo che parlare dieci anni fa ci sono cose che erano impensabili di poter raccontare avendo anche delle evidenze sperimentali a supporto ma adesso questo succede e diciamo intendendo estendendo un po' all'estremo il concetto di eredità epigenetica e quindi si eredita qualcosa che è strutturato come informazione se noi guardiamo questa una cellula allora l'eredità l'informazione genetica quindi oggetto di eredità genetica è la sequenza del DNA quindi questo è un nucleo qui potete immaginare tutto il DNA di cui vedete qui un tratto un po' così più in grande con la sequenza in basi questa sequenza è l'informazione genetica ma anche come il DNA è strutturato all'interno del nucleo con parti meno dense più dense cioè più compatte meno compatte più compatte e quindi meno accessibili più accessibili a proteine che determinano l'espressione del DNA anche questo è una forma di informazione il DNA è strutturato in cromatina avvolto attorno a proteine istoniche ci sono gli istoni che possono essere modificati chimicamente da tutta una batteria complessa di enzimi che aggiungono tolgono le modificazioni ci sono proteine che riconoscono come una sorta di codice queste modificazioni e possono generare strutture più condensate o meno condensate del DNA quindi tutta questa architettura tridimensionale complessa di un genoma nel nucleo è un qualcosa che può essere oggetto di eredità questo è un punto così come può essere oggetto di eredità e quando dico eredità intendo dire stabile cioè che viene trasmessa per più generazioni determinando un fenotipo questo si applica anche a ciò che è nel citoplasma adesso io sto chiaramente spingendo molto e come dire estremizzando un po' le cose però il citoplasma che peraltro ha questa densità di macromolecole questa è una simulazione del citoplasma di un batterio in cui si vede quanto si affitta la presenza di macromolecole RNA proteine eccetera e allora nel citoplasma organelli RNA messaggeri RNA non codificanti particelle ribonucleoproteiche citoscheletro membrana strutture di particolare organizzazione strutturale allora tutto questo ci si sta rendendo conto che è qualcosa che può essere trasmesso come eredità strutturale alle cellule forse addirittura anche a generazioni successive qui vi mostro due solo i titoli di due lavori uno pubblicato su Nature Genetics nel 2017 da Giacomo Cavalli che fra l'altro brillantissimo scienziato italiano che lavora a Montpellier che è stato anche mio compagno di studi all'università e lui ha pubblicato questo lavoro incredibile in cui dimostra che c'è una eredità transgenerazionale cioè per più generazioni di uno stato uno particolare stato tridimensionale della cromatina cioè del DNA dentro il nucleo e quindi a cui corrispondono degli stati biologici diversi e per cui questa è la trasmissione per più generazioni di questi stati funzionali alternativi in presenza della stessa identica sequenza di DNA genomico quindi questa è proprio una dimostrazione chiara di una eredità epigenetica transgenerazionale e poi c'è la frontiera forse ancora più estrema dell'eredità epigenetica che è quella unicamente basata su proteine e cioè sulla presenza di particolari conformazioni proteiche alternative a cui corrispondono stati funzionali stati biologici alternativi o diversi fra di loro e il fatto che ci possono essere dei meccanismi che il professor Ceroni conosce benissimo visto che ha studiato i prioni anni fa di fenomeni di conversione conformazionale per cui veramente si sta dimostrando per il momento ancora su organismi unicellulari che stati conformazionali indotti da certe condizioni ambientali per esempio che sono basati sulla presenza di certe strutture proteiche possono attraverso una sorta di contagio interproteico che ho chiamato conversione conformazionale possono essere trasmessi alle generazioni successive e influenzare il comportamento delle cellule quindi influenzare il fenotipo delle cellule quindi esiste tutta una dimensione di eredità epigenetica che è tutta da esplorare e questo qua il motivo per cui lo dico è perché da un lato mi affascina mi interessa molto ma poi questo è un contesto con cui noi dobbiamo fare i conti ogni volta che consideriamo una modificazione genetica come dire noi il genoma lo possiamo modificare e quindi battiamo là dove riusciamo a battere e a fare le nostre cose ma questo non è tutto c'è un contesto in cui quello che noi facciamo si colloca vorrei spingermi approfitto dell'occasione anche oltre questo per affrontare un tema che forse è un po' più inaspettato in generale l'epigenetica ce la si aspetta quello che sto per dire ce la si aspetta un po' meno ma vorrei anche dire questo che gli esseri viventi sfuggono a una ricapitolazione scientifica cioè quando noi pensiamo che cos'è un essere vivente e vogliamo pensare questa cosa a tutto campo cioè come dire considerando tutti gli aspetti dell'essere vivente allora cosa io cosa faccio io parto da me che sono un essere vivente sono un organismo fra l'altro inserito anche in un bell'albero evolutivo per cui come dire si è arrivati a me attraverso dei passaggi che implicano una mia in qualche modo struttura comune con altri organismi allora se io osservo me organismo non con sguardo scientifico ma se io semplicemente prendo atto di quello che accade in me nella mia soggettività vivente io mi rendo conto che c'è tutto un mondo interiore adesso io sto definendo in modo forse un po' impreciso però c'è tutta una interiorità reale cioè fatta di percezioni fatta di tutta la mia vita interiore intesa proprio anche come pura percezione della qualità delle cose della qualità di un suono di un'immagine eccetera che nella sua essenza non è accessibile dall'esterno cioè non è deducibile da una descrizione prettamente scientifica di ciò che io sono però esiste questa cosa che sto dicendo trovo comodo farla dire così in modo tanto è un grande scrittore quindi può permettersi un po' di dire quello che vuole allora in una bozza dei demoni Dostoevsky o un personaggio fa una considerazione sulla sulla cimice e dice la scienza sa che si tratta di un organismo vivente con qualche sua vita ma può la scienza sapere trasmettere la sostanza della vita delle considerazioni e delle sensazioni della cimice in nessun caso per venire a conoscenza di ciò occorrerebbe per un attimo diventare una cimice cioè occorrerebbe quel punto di vista in prima persona che c'è perché io forse ognuno di noi è la cosa che conosce più direttamente il punto di vista in prima persona se volete il punto di vista in terza persona dell'analisi scientifica viene dopo e la sua possibilità è radicata in questo mistero della soggettività vivente pensante che siamo noi che rende possibile tutto il resto fra l'altro queste considerazioni si riallacciano anche a un tema molto bello del rapporto fra la filosofia trascendentale e il naturalismo cioè in che misura ci può essere una spiegazione puramente naturalistica di tutto e in che misura invece la possibilità stessa di un naturalismo e di una scienza è radicata cioè ha dei presupposti che non sono a loro volta racchiudibili dalla spiegazione naturalistica quindi e questo io lo dico perché può sembrare così uno sconfinamento in debito in ambiti filosofici oppure ma in realtà questa qua è realtà cioè quando la realtà di un essere vivente mio come uomo ma io posso benissimo immaginare che ci sia una realtà analoga anche almeno anche per la cimice o qualche altro animale che voi volete questo qua esiste ed è misterioso il nesso che c'è fra questa dimensione soggettiva questo se tra virgolette che possiamo attribuire a degli esseri viventi e la loro struttura materiale quando noi interveniamo sulla struttura materiale di fatto chiamiamo in gioco in modi che non sappiamo questi aspetti anche cioè quello che quello che io penso avendo in mente la possibilità di manipolazione del genoma umano è questo secondo me è un punto di svolta importante quello in cui ci troviamo adesso non sono tanto per la sdrammatizzazione di questo momento secondo me questo in cui ci troviamo io lo vedo come un momento drammatico nel senso che per la prima volta l'uomo ha la possibilità se fa certe cose che sono modificazione indiscriminata ovviamente cose da cui fortunatamente siamo lontani ma modificazioni indiscriminate della propria struttura genetica per la prima volta l'uomo può in qualche modo agire con conseguenze imprevedibili sulla propria stessa natura anche per quegli aspetti che costituiscono la possibilità stessa di una coscienza di una scienza di un cammino cioè è proprio è un qualcosa che si rivolta su se stesso con conseguenze imprevedibili quindi questo io penso che sia un punto molto diciamo molto importante non so se ho ancora cinque minuti Mauro per sì posso cinque minuti sì sì cinque minuti comunque il professor Solave mi ha già aiutato noi abbiamo il allora nella diciamo dibattito internazionale che c'è stato a livello scientifico che c'è anche in questo momento tu citavi questa cosa del fine del 2015 allora la posizione generale che emerge qual è l'intervento di modificazione del genoma somatico cioè che serve per curare un paziente benvenga nel senso che è un modo nuovo potentissimo di curare certe malattie adesso non stiamo a passare tutti però di fatto l'editing può essere fatto su cellule che non implicano che queste modificazioni introdotte vengano passate alle generazioni successive ma si può arrivare a curare su questo sono tutti d'accordo che con le dovute precauzioni per evitare cose impreviste danni eccetera come si fa anche con i farmaci questa qua è assolutamente da supportare c'è più controversia sulla modificazione cosiddetta germline cioè della linea germinale quello che voglio sottolineare però è che questa modificazione della linea germinale passa sempre attraverso la manipolazione di embrioni cioè se noi vogliamo diciamo intervenire a modificare il genoma di diciamo a livello embrionale come diceva prima Carlo magari per eliminare una qualche anomalia genetica non è che noi abbiamo il singolo zigote e andiamo con la forbicina e modifichiamo e quindi poi questo diventerà un organismo cioè un essere umano guarito in realtà quello che noi dobbiamo fare vista la resa non 100% di questo processo è che noi dobbiamo preparare diversi zigoti con fertilizzazione in vitro provare su molti questa operazione fare un'analisi di quelli che sono riusciti di quelli che no e poi eventualmente impiantare e nasce un bambino sano però tutto questo è passato attraverso una sostanzialmente generazione abbastanza massiva a volte di embrioni di cui poi soltanto uno viene tenuto quindi applicare il termine terapia a una procedura di questo tipo a mio avviso non sta in piedi perché che cosa curo chi curo non sto curando qualcuno tant'è vero che non mi preoccupo di scartarne la maggior parte di tenerne uno quindi se mi sta a cuore questo essere umano in embrione che io voglio curare non ci sta che io poi i suoi simili li scarti se invece non mi sta a cuore allora io non sto curando qualcuno ma sto facendo dell'eugenetica cioè sto in qualche modo sto progettando cioè non è terapia ma è progettazione di umani l'ultima cosa che voglio dire fra l'altro è che comunque questa eventualità di compiere questo passaggio per arrivare poi a un essere umano geneticamente modificato al momento viene da tutti considerata come irresponsabile non sa da fare eccetera mentre viene generalmente auspicato questo tipo di diciamo l'editing su gameti che comunque poi devono diventare degli embrioni per verificare i cambiamenti oppure editing direttamente su embrioni a scopi di ricerca il che significa embrioni come materiale da esperimento qui non si scappa poi uno può avere così le proiezioni che vuole immaginare però di fatto quando come per esempio in queste questo è tratto dalla come dire dalle conclusioni di questo summit internazionale di dicembre e dice ricerca di base e preclinica benvenga per capire la biologia dell'embrione umana quindi l'embriologia umana eccetera se durante la ricerca embrioni umani o cellule germinali vanno incontro a genome editing queste cellule non devono essere usate per stabilire una gravidanza che significa devono essere distrutte infatti in questo studio per esempio che tu citavi prima questo studio di Nature qui è fantastico è emblematico quello che è successo perché due anni prima dei cinesi avevano fatto qualcosa di questo tipo avevano fatto per primi il editing genomico su embrioni e tutta la comunità scientifica internazionale è insorta contro questa cosa dopo due anni circa l'autorità competente britannica ha concesso il permesso di fare questa sperimentazione dicendo tanto questa è per pura ricerca pura conoscenza non vogliamo fare quelle brutte cose che sono far nascere degli uomini transgenici li distruggiamo prima e in questo caso lo studio quindi l'autorità ha concesso il permesso il laboratorio che lo aveva chiesto in pochissimi mesi ha fatto gli esperimenti c'era Nature che è britannica pronta a pubblicare il lavoro è stato pubblicato questo lavoro che non dice assolutamente nulla di nuovo perché che OCT4 fosse un fattore di trascrizione fondamentale per l'embriogenesi dei mammiferi era noto da decenni quindi l'unico elemento di scalpore che ovviamente Nature ha fatto suo è che lo si è fatto sull'uomo ma chiaramente allora il commento che a me viene da fare e concludo è questo che c'è molto da pensare da riflettere su queste cose io sono molto personalmente molto urtato da una sperimentazione sull'umano di questo tipo cioè sull'essere umano per quanto in embrione utilizzato come materiale sperimentale questa è una ricerca io non non c'è nobiltà in questo in questo tipo di ricerca questo lo dico chiaramente perché è proprio molto sincero come dire gente seria competente che fa le cose molto bene ma non c'è nobiltà in questa è come se si volesse ignorare è come se ci fosse una moratoria sulla domanda di che cos'è questa cosa su cui stiamo sperimentando che è quindi un voler guardare la realtà delle cose dell'organismo in questo caso umano su cui io sto intervenendo e questo ho trovato così quando riflettendo su questi studi dicevo ma non sono proprio non c'è non c'è quell'umanità che uno vorrebbe vedere anche nella scienza e allora a un convegno a cui ho partecipato nei giorni scorsi che ero più di filosofia a un certo punto qualcuno ha parlato un esperto di Kant ha tirato fuori la questione del ciclope di Kant che io non avevo mai sentito nominare in una riflessione diciamo che viene prima della critica della ragion pura la riflessione 903 Kant tira fuori l'immagine del ciclope che lui riferisce a diciamo agli specialisti del suo tempo che erano giuristi medici letterati eccetera non c'erano i biologi ma se ci fossero stati all'epoca erano stati anche loro della partita e lui dice proprio inventa questa cosa cioè inventa questa formulazione dell'egoista della scienza questo dotti lo chiamo ciclope un egoista della scienza nel senso che gli è necessario un altro occhio così da vedere il proprio oggetto anche dal punto di vista degli altri uomini ma avendone uno solo non lo vede e quindi è come se non vedesse lo spessore di quello che c'è in gioco e dice sul fatto di avere i due occhi si fonda l'umanità delle scienze ovvero questo mi è piaciuto tantissimo l'affabilità del giudizio allora uno studio uno studio scientifico affabile è qualcosa che non si può definire però è qualcosa che attrae e questo secondo occhio più avanti nello stesso frammento dice è quello della della conoscenza di sé della ragione umana senza il quale ci manca la misura delle dimensioni della nostra conoscenza allora mi è sembrato che questo centrasse parecchio con con quella importanza di vedere gli esseri viventi in generale l'uomo in particolare anche dal punto di vista di una conoscenza non so come dire non confessionale cioè basata sulle scienze sulla filosofia sul no proprio anche solo su questa base l'importanza di non perdere questo tutto tondo delle cose che altrimenti ci fanno appiattire su su qualcosa che adesso non mi ricordo a memoria la citazione non l'ho messa nella slide però quando dice a un certo punto l'avevo ritrovato tempo fa un discorso di Benedetto XVI del 2012 che diceva penso che fosse alla facoltà di medicina della cattolica a Roma quando dice a un certo punto dice senza amore anche la ricerca perde la sua nobiltà allora questa cosa della nobiltà della ricerca io penso che rischi di andare perduta e uno dice ma ti interessa la nobiltà l'importante è avere risultati e invece no non è così e questo secondo me lo chiarisce penso di aver finito sono aperte tanti scenari e tante cose per cui se qualcuno grazie grazie delle presentazioni mi sono molto piaciute vorrevo far risaltare un po' una contraddizione profonda fra questo aspetto che dicevi tu dell'ultimo del fatto di manipolare embrioni e non chiedersi neanche non porsi neanche la domanda di cosa sono realmente e dall'altra parte invece impedire osteggiare e rallentare l'applicazione di tutte le stesse tecnologie nel settore vegetale per cui un embrione vegetale non si può toccare perché ahimè non si sa mai quello che può succedere mentre invece su un embrione umano possiamo fare quello che vogliamo lo pubblichiamo lo distruggiamo poi a piacere quindi mi stupisce veramente questa perdita totale di percezione della realtà per cui le cose che sembravano ovvie cento anni fa per cui tutto il cosiddetto genome all'antica cioè il fatto di mutagenizzare a tappeto gli organismi vegetali era visto come un progresso e lo è stato veramente perché ha portato benefici incredibili in agricoltura e oggi invece viene osteggiato come se fosse un rischio incalcolabile forse qua puoi rispondere meglio perché l'osteggiato in realtà forse non è tanto a livello di quello che si fa in laboratorio ma è poi della sua applicazione cioè quello che è in questione qui è cosa consideriamo oggi come naturale oggi si dice questo cibo è naturale questo è naturale ma quando diciamo naturale cosa intendiamo c'è qualcosa c'è qualcosa cioè c'è un'idea di natura un po' così utopica arcadica bella eccetera eccetera ma non è così tutta la storia della vita sulla terra è una storia di interazione tra gli organismi l'ambiente l'ambiente e gli organismi cioè è a doppio senso continuamente per cui bisognerebbe riuscire a guardare in faccia veramente quando noi diciamo naturale cosa che invece sul giornale solo in televisione viene continuamente questo non è OGM invece tutto ciò che noi coltiviamo è OGM assolutamente ma questo ultimamente cosa segnala questo desiderio di tornare a uno stato naturale è forse un modo di non trovarsi a nostro agio in un orizzonte che è totalmente determinato dalla tecnologia oggi come oggi il nostro ambiente è la tecnologia per l'amor del cielo ho fatto cose buonissime eccetera ma se satura il nostro orizzonte in qualche modo ci lascia insoddisfatti e allora emerge questo bisogno di torniamo a quest'idea eccetera eccetera ed è io tornerei a questo punto cioè questa incapacità di vivere la realtà come siamo presente che indubbiamente è totalmente occupata da questa mito che la tecnologia ci aprirà delle possibilità io adesso perdo utilizzo due minuti solo per una abbiamo appena finito di fare questa mostra che era qui era statale dal titolo La bellezza dei fiori il primo pannello era una cosa strana cioè una scoperta che abbiamo fatto che c'è questa grotta sui monti Zaglos che sono il versante orientale della Mesopotamia dove questa grotta in uno strato datato centomila anni fa quindi a metà strada della nostra vita come Homo Sapiens sulla terra hanno trovato questi sette scheletri di Homo Sapiens sepolti lì tutti circondati da pollini di fiori quindi questi nostri antenati sepelivano i loro congiunti con i fiori come facciamo noi ora non ha cambiato nulla la domanda è ma cosa rappresentavano i fiori per questi nostri antenati questi erano nomadi cacciatori raccoglitori proprio rappresentavano la bellezza noi siamo l'unica specie che è affascinata dalla bellezza per la bellezza non c'è un'altra specie che ama la bellezza per la bellezza come noi quindi cosa vuol dire che non ci basta solo tecnologia abbiamo bisogno anche della bellezza e allora in un mondo dove ti dicono è tutto maripolato eccetera questo desiderio di tornare al naturale per certi versi forse dovremmo ritrovarlo in un altro in un altro modo cioè riguardando quello che diceva lui cioè quell'essenza lì ok volevo chiederti una domanda che è strettamente connessa con quella ma perché fare un esperimento su oct4 su un embrione umano e non su un embrione di topo o perché non correggere un'alterazione genica in un embrione di topo e invece farlo sull'umano ma allora oct4 è stato guardato in topo e in tanti altri organismi eccetera quindi lì l'hanno fatto in umano proprio perché era l'unica cosa nuova di quello studio era il fatto che lo facevano nel muovo nel senso cioè beh e serve come dire cioè io freddamente posso capire la logica cioè quando quando viene si cerca di mettere appunto un farmaco ma perché non sperimentarlo a tappeto su delle cavie umane sarebbe più efficace che non sperimentarlo su degli animali no cioè come come dire il rigore puramente di ragionamento ci sta però è evidente che cioè perdi non so come dire non hai più non hai più coscienza di ciò che hai di fronte quando stai facendo quella cosa allora io ho l'impressione che invece sull'uomo in embrione ci sia una sorta di di sdoganamento completo da parte della comunità scientifica internazionale nel senso che è come se io non penso che sia in generale perché si è deciso che comunque l'uomo può essere manipolato oppure perché ci si è convinti che l'embrione non è un essere umano secondo me non è per quello ma è proprio come una moratoria pragmatica della domanda di che cosa ho di fronte per passare all'azione per avere per avere risultati per progredire nella conoscenza che indubbiamente se tu vuoi studiare l'embriogenesi umana quale sistema sperimentale migliore dell'embrione umano questo sta in piedi però lo fai solo se ti censuri cioè se metti tra parentesi la domanda cioè l'interrogarsi sincero su quello che stai facendo però di fatto con i fatti stai già rispondendo cioè per te comunque di fatto quello è materiale da esperimento poi tu puoi immaginare tutti i fini nobili che vuoi per questa cosa che stai facendo ma quello che stai facendo non è nobile lo so questo è il mio punto di vista molto chiaro insomma ma cosa otterranno in più manipolando cioè perché a me veramente poi questo è molto dubbio effettivamente cosa otterranno in più potrebbero non ottenere tanto di più perché al di là cioè io non ci credo agli impegni morali della società moderna dell'uomo moderno cioè siamo rispettatori il secolo scorso di cosa siamo capaci di fare per cui non ci credo penso soltanto che sia la realtà che ci può no cioè non riesco a capire quale sia il vantaggio di manipolare a tutti i costi l'embrione umano rispetto al fatto che puoi scoprire queste cose sapere anche perché bisogna vedere a cosa servono nell'embrione di un topo di un sì non è non è chiaro quale possa essere il vantaggio c'era forse io se no avevo una domanda allora secondo me un punto che potrebbe essere invece importante anche da cioè è l'intervento sul gamete perché adesso penso un caso concreto insomma la malattia neurologica più frequente dovuta a un aumento dei ripiz è la coria di Huntington la coria di Huntington viene in persone che sono fertili quindi noi incontriamo spesso spessissimo in clinica della gente che scopre di avere questa malattia perché ormai facciamo la diagnosi genetica e ha dei figli o magari vorrebbe dei figli e sarebbe possibile penso non so nel caso per esempio che sia il padre fare la cernita degli spermatozoi vedere ovviamente bisogna passare attraverso una una fertilizzazione in vitro però questa è una cosa possibile come giudichi questo anche perché mi sembra profondamente diverso dall'intervenire sullo zigote e sull'embrione allora sulla base degli approcci attuali questa cosa che dici deve poi passare attraverso l'utilizzo dei gameti modificati attraverso genome editing deve passare comunque attraverso la produzione di un certo numero di embrioni che poi verranno selezionati cioè fra i quali verrà selezionato no non necessariamente se tu selezioni a monte gli spermatozoi di un padre portatore di Huntington prendi solo gli spermatozoi che siccome è dominante vuol dire che un gene è alterato e l'altro no e quindi scegli soltanto gli spermatozoi che non trasmettono la malattia quindi secondo me questo è oggettivamente diverso oggettivamente molto diverso e anche concepibile nella sua utilità non lo so io quanto si sa se l'espressività della Corea è su base monogenica purtroppo è una penetranza altissima anzi addirittura c'è un anticipo generazionale perché tende ad aumentare il numero dei ripizzi e questo accade quando c'è la via paterna perché ovviamente nel padre i gameti sono tantissimi spermatozoi sono 200.000 400.000 per volta e quindi la gametogenesi è molto alta e quindi le possibilità che si creino degli allungamenti ulteriori e quindi delle alterazioni ulteriori del gene aumenta mentre invece per via materna di solito viene trasmessa come tale perché l'ovulo è unico il punto è è su base monogenica la Corea strettamente monogenica dominante sì adesso questo cioè questo lo dico come genetista in genere c'è sempre una variabilità di espressività anche nelle monogeniche cosa vuol dire che c'è la variabilità di espressività faccio un esempio ben stupido cioè ammettiamo che il mancinismo sia su base monogenica quanto sei mancino è molto variabile puoi essere totalmente mancino oppure un po' meno un po' meno un po' meno cosa vuol dire che l'espressione di quella determinata funzione genica è controllata dal contesto cioè era quel concetto lì generalmente c'è sempre una variabilità allora questo cosa vuol dire che in realtà anche nelle monogeniche eccetera quel gene lì sta parlando con molto altro eccetera sono certo che modificando quello riesco a risistemare tutta l'interazione questo è un po' il problema che c'è perché anche nell'atlassemia è così anche nell'anemia cioè il grado di espressività è sempre determinato dal contesto questo vuol dire che poi devi selezionare il gamete proprio giusto dove il gene lo correggi ma devi risistemare anche tutta la sua interazione non è semplice quello sul concetto di gene come network come reti allora intanto mi colpisce il fatto che se ne parli così poco anche a livello della comunicazione sembrerebbe una cosa grossa come novità dal punto di vista della scientificamente dell'acquisizione scientifiche non lo vedo così diffuso ho visto poche copertine di science forse nessuna con quelle con quell'immagine lì e poi se è una cosa ormai assodata allora i ricercatori i scienziati che fanno ricerche esperimenti volti a trovare la soluzione del gene per una tale funzione fanno al di là delle valutazioni prima ancora delle valutazioni morali etiche eccetera fanno una scorrettezza scientifica sanno che non è così sanno che non è così perché sanno che sicuramente interverranno nell'espressione di una certa funzione altri fattori però decidono di ignorarli è un esempio di riduzionismo estremo ma non nel senso che cominciamo a ridurre come ha fatto Galileo per poi arrivare magari a migliorare ma vuol dire o no sono troppo severo nel dire questo o secondo me un po' sì in questo senso che io distinguerei due casi un caso è quello della tentativa immaginiamo tentativo di correggere una un'anomalia genetica lasciamo stare magari gli interventi su linea germinale immaginiamo che questo possa essere fatto su cellule diciamo non germinale somatiche quindi prelevate modificate poi reimpiantate oppure allora in questi casi in alcuni di questi casi c'è una conoscenza molto dettagliata di quali sono le varianti di questo gene a cui corrisponde uno stato patologico e di quali sono le varianti diffuse fra l'altro nella popolazione umana a cui invece corrisponde uno stato di salute allora in questo caso a me sembra che focalizzarsi sul gene da correggere avere cura di riportarlo non a una sequenza inventata da noi ma a quelle cioè a quelle varianti che sono presenti nella popolazione umana sana quindi un intervento mirato proprio un editing di singola magari di singolo nucleotide cioè di singola posizione di questo tipo anche con tutto diciamo le considerazioni sui network genetici però a me questa sembra una cosa molto prudente mirata e con alte probabilità di successo invece è diverso quando si pensa e c'è chi ci sta pensando ovviamente alla modificazione genomica per un enhancement cioè per un potenziamento per l'acquisizione di nuove funzioni cioè oppure di capacità superiori alla norma eccetera allora in quel caso sì che entra in gioco pienamente la complessità della situazione anche se poi c'è chi dice no ma noi sappiamo benissimo che se cambiamo quel gene in modo che le ossa si rafforzino quell'altro che è implicato nell'invecchiamento riusciamo a prolungare la durata della vita eccetera quindi c'è la gente che ci sta pensando però evidentemente in quel caso sono d'accordo con le considerazioni che facevi invece in casi di terapia genica fra l'altro magari che non sono passate attraverso il genome editing ma fatte con strategie precedenti che hanno avuto un successo hanno funzionato e sono delle cose grandissime secondo me volevo su questo intervenire perché appunto il fatto che se si vuole intervenire sul rafforzamento l'espressione di nuove funzioni nell'uomo eccetera non si tiene conto di un fattore secondo me veramente fondamentale che dietro come siamo stati fatti c'è l'intelligenza dell'evoluzione che è incredibile cioè il DNA le proteine di cui siamo fatti eccetera sono si sono evolute tenendo conto di tutti i fattori in maniera di poter arrivare al homo sapiens che siamo noi ma comunque agli altri organismi degli altri animali che conosciamo e questo è passato attraverso appunto un tempo e un'intelligenza a me una delle cose che stupisce di più dell'intelligenza di Dio è il fatto che abbia fatto una realtà capace di evolvere in questo modo cioè no che conteneva in sé misteriosamente tutte queste possibilità che poi le contingenze storiche hanno fatto accadere per cui se si va a intervenire su questo appunto non si tiene conto di come siamo costituiti di come siamo stati costruiti e quindi ogni aberrazione può venire fuori e sarà la realtà che fa giustizia di questo non c'è bisogno del moralismo umano che non ha mai risolto nulla ma sarà la realtà perché così come non esiste la droga che ti fa che essere più creativo perché è la grande illusione insomma cioè noi siamo stati costruiti con una sapienza un'intelligenza veramente incredibile che cominciamo di cui cominciamo a capire qualche cosa non so se voi siete d'accordo è molto chiaro è lo stesso cioè la conseguenza di quello che diceva Giorgio è questa detta in estrema sintesi noi siamo quello che la vita ci fa essere ma dentro cioè la nostra vita che ci fa essere come siamo fin dal primo momento poi ma durante tutti gli stadi della nostra vita questo non solo nel tempo della nostra vita ma anche nel tempo di tutta la vita che ci ha preceduto cioè questo è la realtà ecco c'è un'altra cosa che si può dire che c'è sempre un modo un po' che dipende sempre da quella idea del gene per che comunque oggi è molto evidente che non è più così forse sono i giornali che pompano molto perché vai facilmente uno degli aspetti che ci si rende conto di questo che noi siamo quello che la vita ci fa è anche a riguardo come si manifesta un'alterazione genetica ereditaria cioè se tu hai un gene alterato fin dall'inizio quello che tu vedi è come l'organismo si è riadattato riassettato per compensare quell'alterazione cioè adesso faccio un esempio stupidissimo ammettiamo di avere un gene che controlla la crescita dell'alluce del piede sinistro muta quel gene e l'alluce non cresce il bambino che ha questa alterazione come lo vedi fenotipicamente vedi come si è adattato a quella mancanza quello che vedi non è la funzione di quel gene che fa crescere ma come l'organismo si è adattato a quella mancanza camminare se invece io tu che hai tutti i due normali te lo taglio adesso tu immediatamente vedi la funzione di quel gene perché ti viene a mancare non hai potuto adattarti quindi il fenotipo che vedi in un'alterazione genetica è l'esito della mancanza dell'alterazione di quel gene più di tutto il sistema che si è risettato durante lo sviluppo embrionale perché noi siamo quello che la vita ci fa io volevo anche io ringraziare tutte e due sono Rosy lavoro in ambito di biologia sperimentale ho iniziato così la mia carriera sono rimasta molto affascinata da da questo allora la tecnologia anche nel mio settore è inarrestabile nel senso che non si può porre un limite ogni istante se ne inventa una però uno si pone delle domande come usare bene di questo io ho un esempio ricordando Lejeune e tutto il lavoro che lui ha fatto oggi c'è in atto un tentativo di utilizzare questo metodo Chris Pierre che serve proprio a tagliare quella zona critica del cromosoma in certe cellule in vitro col tentativo di capire come è vero che la sindrome di Down è una malattia di natura metabolica che Lejeune aveva intuito e quindi benvenga un tipo di utilizzo di queste tecnologie avanzate la cosa sulla quale anche io mi trovo sconcertata è proprio l'assenza di giudizio che la comunità scientifica vuole dare perché vuole arrivare a tutti i costi a un risultato che si usi l'uomo che si usi qualsiasi cosa pur di capire delle cose che non si capiscono allora anch'io ricorro a quel documento di Benedetto XVI nel 2012 dove parla del Quereredeum che è il punto focale di uno scienziato vero credo allora la mia domanda è avendo alle spalle e conoscendo la storia di Lejeune lui ci ha rimesso di persona tutto il nobel i soldi la fama ma anche adesso cercano di screditarlo che sta andando alla santità dicendo che non è stato lui a fare questa scoperta bensì una delle cose non vere io mi pongo nel mio ambiente e dico io quando mi espongo e dico veramente che tipo di cultura che tipo di educazione che tipo di visione ho della vita ci rimetto perché però ne acquisto di libertà perché i ragazzi hanno proprio bisogno della verità cioè al di là delle belle scoperte se uno affronta gli studenti cercando di dialogare anche da posizioni diverse io ho visto nella mia esperienza che ne acquisto io di libertà ma anche loro e quindi si va avanti insieme che esperienza avete voi di questo allora sì concordo con tutto quello che ha detto anche rispetto alla appunto a una certa difficoltà che si ha magari nell'esporsi su posizioni che poi in realtà spesso sono semplicemente posizioni di chi si interroga su quello che stiamo facendo perché io ne approfitto per due cose che spero corrispondano anche a una risposta a quello che lei chiedeva un primo punto è tutta la grande questione della bioetica perché uno potrebbe dire si parla di bioetica eccetera in realtà io ho l'impressione che il punto vero di di lavoro importante sia proprio quello che diceva lei per esempio parlando dell'educazione a scuola eccetera secondo me il problema che abbiamo non è tanto di darci più o meno regole che poi come dicevi sappiamo bene dove va a finire poi il moralismo umano nelle sue diverse forme eccetera il punto è che proprio quello che è importante che che ognuno abbia la possibilità di di vedere in qualche modo di essere aiutato a vedere è la la natura cioè la natura delle cose cioè stare di fronte alle cose proprio con la con la domanda di capire ma proprio completamente cioè nel più possibile nel modo il più possibile completo la realtà di ciò a cui si trova di fronte e questo evidentemente non lo si può ottenere mettendo più o meno regole sì poi ci sono cioè voglio dire per carità va benissimo che ci hanno le norme e che insomma hanno un loro effetto eccetera però il punto è a monte anche perché che etica ci può essere se non supportata cioè ogni etica dal mio modesto punto di vista magari poco fine nei ragionamenti in questo ambito è che non esiste un'etica che non abbia dietro non so un'ontologia un qualcosa su cui poggiare perché altrimenti l'etica diventa un qualcosa che introduci dopo per darti delle norme perché ti preoccupi un po' e quindi e quindi alla fine cioè la diciamo l'aspetto etico diventa solo come quando si scrivono i progetti oppure quando ethical issues c'è tutto il progetto le belle cose che vuole fare poi c'è il capitolo degli ethical issues che in genere sono come liberarsi da tutte le erogne da tutti i vincoli come soddisfare tutta la normativa per poter procedere a fare le cose che interessano cioè questo lo dico magari è un po' esagerato quello che sto dicendo però è proprio l'etica come vincolo a posteriori quando già si è partiti per cui evidentemente viene sentita come una limitazione alla libertà della ricerca un'etica di questo tipo mentre il lavoro è a monte è al livello a cui diceva lei allora io nella mia esperienza cioè venendo proprio alla domanda specifica quello che io ho sempre cercato di fare nei corsi diciamo nei corsi universitari che tengo è proprio sempre di di far apprezzare come potevo la la profondità delle cose cioè il fatto che da un lato in ambito scientifico c'è una necessaria riduzione metodologica oppure quando si fanno degli esperimenti c'è una sorta di scetticismo metodologico perché tu hai continuamente in atto eccetera comunque c'è un certo ambito d'azione però da un lato questa c'è una inesauribilità della realtà comunque anche lungo il canale scientifico perché si scoprono sempre cose se tutto si allarga c'è un aspetto di inesauribilità e io credo che spesso questo sia passato per esempio una delle più grandi soddisfazioni lo dico ma così non vorrei sembrare uno che si vanta però mi ha fatto piacere recentemente una studentessa che mi ha ringraziato perché seguendo certe lezioni ha come avuto l'impressione che qualcuno le aprisse una finestra e lei vedesse fuori che è una cosa molto semplice però secondo me quello che noi che chi ha che insegna insomma a vari livelli è importante che faccia è proprio se ce l'ha se ha la grazia di avercela un po' di dare questo senso di apertura delle cose che con la scienza non ci si va a incantonare in un angolo angusto a fare delle cose più o meno convenienti ma è proprio avere la possibilità di nuove finestre che si aprono e poi sempre anche il fatto che c'è una riduzione metodologica che è sempre in atto nel discorso scientifico ma la realtà appunto è bella perché ha questo aspetto ma va oltre non so come dire c'è proprio è molto più estesa e tonda no cioè è spessa ecco è profonda rispetto alla e questo però non è che uno poi lo dica formalizzandolo cioè può emergere però penso che sia mentre devo dire che ho trovato nelle esperienze non tante che ho avuto invece di discussioni con colleghi fatte in modo cioè più ognuno dalla propria posizione no per cui ecco lì in genere non si va mai verso qualcosa di feccon insomma nella mia esperienza quello si è sempre risolto insomma in una un po' uno scontro una manifestazione reciproca di opinioni diverse più o meno accesa come così come scontro ma io ho sempre fatto un po' più fatica a trovare una possibilità di qualcosa che che mi sembrasse veramente interessante anche per me insomma non so se ho risposto ma dirò una cosa prego prego le domande sono due una è questa mi pare che le ricerche scientifiche con la possibilità di intervento in campo vegetale si è stati più liberi e quindi si è arrivati alle applicazioni degli organismi geneticamente modificati con le scuse poi anche che ma perché così tutto ci sarà da dare a mangiare a tutti giocando su questo scopo l'utilità di questo tanto è vero che lì è una questione anche di proibizione io so che fino ad alcuni anni fa l'Italia a livello europeo ha giocato sulla proibizione di produrli no mentre non so noi mangiamo le arance modificate della Spagna e via non so mentre quali italiane ecco questa è la domanda cioè dal punto di vista della libertà della scienza della ricerca scientifica con un mondo che così noi con il senso di superiorità umana riteniamo inferiore io mi riferisco almeno a quello che so di giudizio di Aristotele sull'anima vegetativa e non quell'animale che hanno le piante invece che l'uomo quindi questa è una domanda l'altra invece mi interessa diciamo con questa perché qui c'è un po' un equivoco da chiarire quando noi diciamo organismo geneticamente modificato OGM noi ci riferiamo a un certo modo di modificare a un certo modo a un certo metodo quello basato sul DNA ricombinante ma che tutti gli organismi che noi coltiviamo siano geneticamente modificati con tantissimi altri metodi la selezione massale l'incrocio questo è fuori di dubbio quindi quando si dice OGM si dice solo quegli organismi che sono modificati in un certo modo con un certo metodo ok qual è col problema del genomedite sa qual è il problema è che io non riesco a capire se è stato modificato in che modo perché mi risulta come se fosse una mutazione spontanea alla fine non rimane traccia mentre con quel metodo che va sotto la definizione Unione Europea bla 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 eccetera si può riconoscere quindi in realtà tutto ciò che noi utilizziamo è geneticamente modificato assolutamente la seconda domanda in campo umano la questione del rapporto fra scienza anche nel massimo della ricerca e il limite che poi come uomini dovremmo riconoscere e qui c'è la questione della trascendenza no cioè c'è una trascendenza allora per cui c'è stata la creazione e quindi noi siamo o siamo arriviamo a tali punti che possiamo credere come degli dèi no cioè il limite il senso del limite che ad esempio avevano molto di più medievali io vengo da una preparazione umanistica quindi parlo più di interrogazioni dal punto di vista filosofico insomma grazie sì è evidente che la scienza di come tale non può rispondere alla sua domanda però direi questa cosa qui che è un po' mio parere il punto che c'è sotto tutta questa serata in fondo cercare di capire la differenza che c'è tra tecnica e tecnologia o tecnoscienza che è quella forma di tecnologia innervata dalla conoscenza scientifica le rispondo come vecchio studente di liceo classico allora c'è siccome ero un appassionatissimo sempre prometevo che dice a Zeus ma io ho donato agli uomini il fuoco la tecnica ma la tecnica è di gran lunga più debole della necessità del fatto del destino la tecnica è lo strumento ma oggi noi abbiamo rovesciato la tecnologia è di gran lunga più forte del destino questo è l'orizzonte che ci viene proposto Eschi l'aveva capita benissimo questo perché Zeus lo deve inchiodare là perché lui ha capito che avendo donato gli uomini la tecnica questi pian piano potevano arrivare alla tecnologia e alla tecnoscienza capovolgere la tecnica è lo strumento eccetera ed è santissimo la tecnologia e la tecnoscienza ecco noi dobbiamo capire questa differenza capire che non esaurisce il destino e questo quindi è una domanda di senso ma io che sono e questo ultimamente è la barriera il limite posso 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 agganciarvi un attimo a quello che diceva lui perché la sua domanda ha fatto venire in mente una diciamo una pièce teatrale molto però semplice come impianto di un autore francese Gustave Tibon che si intitola che è stata scritta negli anni 50 e si intitola sarete come dei e racconta di cioè Gustave Tibon ha voluto portare all'estremo il successo della della tecnologia umana e lui quindi immagina un mondo una sorta di dramma con degli elementi fantascientifici molto semplificati però la riflessione invece è di tipo filosofico insomma molto e allora mette in scena questi personaggi di questa umanità che ha sconfitto la morte cioè ha sconfitto non si muore più c'è stato a un certo punto qualcuno che ha fatto una scoperta che ha permesso da lì in poi c'è uno spartiacco e quelli da lì in poi non muoiono più e non muoiono più significa proprio anche non so anche se si tolgono la vita da soli poi c'è un qualcosa che li riporta li ricostituisce anche se vengono polverizzati vengono poi ricostituiti e in questo scenario cioè di fatto quello che lui tratteggiando dei personaggi in modo molto devo dire semplificato perché più attesi lui fa vedere come il personaggio principale che fra l'altro che si chiama Amanda cioè colei cioè che degna di essere amata o do che deve essere amata a un certo punto non è contenta e tutti attorno le dicono ma come ma tu sei la prima i suoi genitori sono passati dalla mortalità all'immortalità essendo già in vita invece lei è della prima generazione di quelli che sono nati già immortali e quindi c'è attorno tutti i genitori lo scienziato di turno che ovviamente ha un nome tedesco ed è uno assolutamente come dire tutto dentro le sue molto ciclope insomma pensando al ciclope di Kant esatto e tutti le sono attorno e lei non è contente e a un certo punto quello che succede è che lei dice io voglio andare a vedere cioè io voglio andare là dove nella mia patria vera e lei si preoccupa di tutti quelli che ci sono stati prima dello Spartiaco e dice ma quelli dove sono finiti sono andati da qualche parte io voglio andare con loro e quindi sostanzialmente lei comincia a dare segni di tendenza alla morte cioè lei è come se volesse lasciarsi morire ma non per disperazione ma per il desiderio di trovare la sua vera patria e vabbè allora a quel punto poi adesso non sto a farla lunga però è molto bello perché proprio porta all'estremo questo tipo di e non è molto lontano dalla non so come dire da quello che si sente dire adesso perché comunque io ho visto anche ci sono progetti finanziati linee di ricerca proprio programmi di ricerca molto finanziati che hanno dentro comincia a comparire la parola della long life oppure addirittura della long long life cioè quindi c'è questa questa idea che chiaramente è come diceva come dicevi tu di Prometeo insomma c'è anche Platone che dice a cosa servirebbe una tecnica capace di renderci immortali se poi non sapessimo quale uso fare dell'immortalità non sarebbe siamo proprio sicuri penso che possiamo chiudere a meno che non ci siano domande drammatiche ancora dal pubblico penso che chi ci salverà la realtà perché anche la tecnologia ultimamente deve misurarsi con la realtà perché appunto è la realtà che il il parametro ultimo e forse una domanda da fare a molte ricerche è quale utilità quale scopo perché perché ci stiamo allontanando secondo me molto molto dalla realtà e questo inesorabilmente ci farà poi riconfrontare con essa quindi va bene grazie grazie grazie